E allora, buongiorno, buongiorno, siamo qui a Ruedi Garganico, siamo alla Puglio Hotel e oggi voglio disturbare un pochettino di persone che stanno facendo una peredì o tranquilli per capire un pochettino come ci sono trovati questa settimana in nostra compagnia. Ne vedo già uno che si sta prendendo un prosecco, adesso ci avviciniamo. Ma buongiorno! Buongiorno! Buongiorno, allora, come va? Come va? Vedete che si sta rimpresciando qui al nostro bar, al nostro pranzo, aspetta, no, io volevo, stavo passaggiando qui in giro per la spiazza. No, ma ancora passa? E' da mezz'ora qui, l'ho visto. Ah, si ruba direttamente così in prosecco. Buongiorno! Allora, siccome siamo tutti e due qua, volevo capire un attimino, volevo farti un pochettino sulle domande su com'è, se è andata la vostra vacanza, se è andata, insomma, nel modo che si ruba in prosecco è una cosa incredibile. Niente, questo è un buon segno, però, eh? Eh, credi? Eh, buon segno. La moglie e il marito non mettere il prosecco, è proprio una cosa. Volevamo sapere appunto come abbiamo si trovati in questa settimana di Manfanta e compagnia della Puglia. Allora, esperienza fantastica. Cibo ottiene, la struttura accoglientissima, direttore fantastico. La chicca siete voi, ve lo dobbiamo di proprio, perché i nostri figli hanno laura. No, la struttura è la struttura. Sicilia che appunto non davamo altro giusecco. Ne approfitto, perché poi dopo non c'è. E abbiamo giocato, ballato, cantato, veramente molto grazie. Grazie, quindi allora speriamo di rivedervi in una prossima struttura a Puglia e passare un'altra settimana in vostra compagnia. Grazie a voi. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Quello merito, ciao. Ciao.